Allora, ho visto gli highlights adesso, sono rientrato, in piazza c'è grande festa, è la serata latino-americana, madonna, quindi fino alle 2 qua. Ho visto gli highlights, ho visto gli highlights, ho visto, come dire, un lautaro che ha capito che quest'anno è l'anno. Quest'anno è l'anno del diventare bomber, questo ho capito io, ho visto molta grinta, molta grinta, ho visto tanta grinta, Turan, Turan, ho visto anche se per secondi certi strappi che ci darà soddisfazione. Arnautovic, Arnautovic, secondo me messo in questo modo, al secondo tempo Arnautovic anche non è oppirla. Speriamo che regge quel maledetto piede che ha un pochettino. Comunque, comunque sia, ti giochi le carte poi a centrocampo, perché dopo entra Sensi, entra quello di nuovo, come si chiama, quadrado. Quindi ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione. Tu dici, siamo incompleti, però attenzione dalla voglia che ci metti, dalla voglia che ci metti, dalla voglia che ci metti, attenzione dalla voglia, perché l'autaro è consapevole, è consapevole, l'ho visto consapevole. Quest'anno è mio, hai capito? Hai capito Stella? Quindi attenzione, Turam, bei strappi, grandi strappi. E poi, un bel assist di Arnautovic, anche se ho visto uno stop che non è riuscito a farlo. E sti cazzi, e sti cazzi. Comunque ragazzi, io voglio gli scappati di casa fatti a pezzettini come il fegatino con la cipolla. Il 16 settembre, il 16 settembre, riguardo un'altra volta gli highlight. Ciao Stella.